segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te atto che diciamo in 15 anni di parlamento ogni volta che si cercava di affrontare e di fare dei passi in avanti la temperatura esplodeva è il sintomo che siamo in un netto ritardo e che le cose debbano essere fatte naturalmente è molto difficile senza contrapposizioni però spero che sia arrivato il momento in cui in parlamento con tutte le articolazioni che il parlamento prevede quindi anche le audizioni di tutte le parti e l'ultima parola come diceva gaetano quagliariello prima spetta alla politica e spetta la maggioranza credo che dei passi in avanti debbano essere compiuti nel merito senza conoscere senza aver visto testi però diciamo il sintomo che tutti i sindaci di tutti i colori politici di tutti i partiti che sono diciamo l'anello portante se vogliamo dell'amministrazione la frontiera rispetto alla cittadinanza i problemi lamentino che il tema dell'abuso d'ufficio debba essere riformato e affrontato è il sintomo che il problema esiste non può essere messo nel cassetto diciamo e non essere affrontato perché oltre al fatto che lasciamo sul sindaco il rischio di passare 5 10 anni con gli avvisi di garanzia coi processi e quindi con una lentezza nella firma e quindi con una burocrazia che diventa veramente frenata con dei riflessi anche sul mondo delle imprese dell'economia e molto molto negativi credo che la giustizia per il suo per la sua essenza e per la sua fondamentale importanza nella democrazia debba affrontare una stagione riformista e non rifugiarsi nella contrapposizione perché la contrapposizione poi diventa una rendita di comodo per chi si contrappone e chi ne paga le conseguenze sono i cittadini l'economia e le imprese peraltro nella già richiamata intervista al sindaco De Caro De Caro a un certo punto dice usa un'espressione secondo me molto efficace dice il sindaco viene accusato di ogni cosa che succede nel suo comune viene indagato soltanto perché sindaco come se ci fosse una sorta di reato di ruolo è un reato è perfetto dice uno dice ma perché devo andare a fare il sindaco a un certo punto perché devo fare questo mestiere se di sicuro finisco in un tribunale con questo non voglio dire che se c'è corruzione se ci sono reati gravi non debbano essere perseguiti ma è più serio dire la verità e chiedo scusa ho finito in 15 anni di esperienza parlamentare io ho sentito persone insospettabili e quindi vicine più al mondo della magistratura che ad altri dire che questo questa fattispecie dell'abuso d'ufficio non può essere non può perseguire in queste in questa dimensione e che va riformata ma come lo scopri e quindi Grazie a tutti.